leggendo il brano di vangelo di oggi percepiamo una cosa e cioè che la gente aveva capito che gesù era in grado di toccare la profondità dell'animo umano infatti va scacciato un demonio da un uomo si raccontano occorre però fare una considerazione solo dio può entrare nell'animo umano nessun altro a volte vorremmo cambiare gli altri modellarli a nostro piacimento cambiare la testa dei figli del coniuge del datore di lavoro di quel collega di quel vicino di casa ma per fortuna non possiamo altrimenti aggiungeremo ulteriori danni a quelli che già facciamo dobbiamo constatare a volte con difficoltà che abbiamo dei limiti possiamo modificare la realtà migliorarla correggerla ne abbiamo i mezzi è giusto farlo ma c'è un limite c'è un confine che non possiamo travalicare solo dio può entrare nel profondo dei cuori e lavorarci con pazienza con le sue tempistiche le sue modalità quando c'è per esempio un po di fatica con una persona quando vorremmo aiutare qualcuno quando siamo a conoscenza di qualche problema da parte di qualcuno o qualcuno ci chiede aiuto è bene fare la nostra parte però poi c'è un limite ricordiamocelo bene occorre capire che noi non possiamo andare oltre anche se vorremmo poter aiutare del tutto quella persona salvarla bisogna ricordarci che solo dio salva non so se vi capita mai di avere a che fare con qualche situazione difficile no o complicata cerchi di fare tutto ciò che nelle tue possibilità però vorresti fare di più ma non puoi ecco quando arriviamo a quella soglia a quella soglia dobbiamo fermarci che non vuol dire arrenderci ben si pregare andare da dio e dirgli ok io sono arrivato fin qui ho aiutato questa persona ho fatto del mio meglio ma non posso andare oltre ti affido questo individuo questa persona questa situazione pensaci tu lavoraci tu tu sai cosa devi fare cos'è meglio per lei per quale sta da passare questo ci dà fiducia e ci dà anche libertà perché ci ricorda che non siamo noi a salvare le persone noi possiamo arrivare fino a un certo punto è giusto fare la nostra parte ma arriviamo fino a un certo punto le persone che troviamo nel brano di oggi del vangelo riconoscono che gesù ha il potere di toccare l'animo umano ma attenzione credono che si opera del male che si opera del demonio no noi dobbiamo avere la completa e totale fiducia che quando affidiamo una situazione tanto più una persona dio lui lavora per il bene di quella persona seppur con modalità e tempistiche che noi non sempre capiamo o accettiamo anzi a volte quando noi pretendiamo di fare tutto da soli da risolvere tutto a modo nostro rischiamo proprio di fare danni è bene agire per il bene degli altri ma a un certo punto c'è un limite dove occorre dire ora ci pensi da dio da qui in poi sei tu che puoi agire che puoi raggiungere il cuore e l'animo di quella persona e accompagnarla non vuol dire che quella persona l'abbandono le sto ancora accanto ma so che non lo faccio solo io ma che l'ho messa anche tra le braccia di dio giornata